buongiorno a tutti sono claudia baldini l'arte del comunicare oggi abbiamo fatto una sorpresa col dottor paolo notaro così un'improvvisata abbiamo recuperato la nostra diretta di due sere fa perché l'argomento era molto importante è stato richiesto e si parlerà della terapia del dolore buongiorno paolo benvenuto buongiorno claudia saluto a tutti gli amici che hanno sono in diretta il dottor paolo notaro è responsabile del dipartimento che si occupa della terapia del dolore all'ospedale ni guarda di milano allora l'argomento è vastissimo noi abbiamo una scaletta perché io preferisco seguire una scaletta proprio per non perdermi quindi cos'è il dolore partiamo proprio dall'abc sì dolore già nella nella definizione da un'idea molto di complessità perché diciamo tassonomicamente diciamo come espressione accettato in tutta la letteratura internazionale si definisce una sensazione spiacevole emozionale quindi la prima parte è una sensazione spiacevole emozionale riferita come un danno no in presenza diciamo di un trauma più o meno evidente quindi nella definizione in sé non è laia vi fa male causa effetto quindi premette che c'è un'elaborazione sensitiva soggettiva personale e non c'è rapporto in assoluto rispetto a un danno perché per definizione dice che il danno può essere più o meno evidente quindi vuol dire che ci può essere un trauma un incidente un taglio chirurgico più o meno evidente ma anche diciamo che la causa scatenante non è così evidente quindi già per definizione il tema è difficile devo dire che ha avuto coraggio a fare su questa tematica perché si si presta a diverse interpretazioni o troppo diciamo semplicistiche o troppo complesse ci prova un pochino ad aiutare chi segue quindi diciamo la premessa per definizione dire che c'è una parte emozionale emotiva che in qualche modo amplifica il riferito il percepito la definizione quando parla di sensazione spiacevole unita a un danno tessutale a un danno organico a un danno biologico vuol dire che mette insieme i due livelli questa è una premessa penso che la riprenderemo quindi la lasciamo col file aperto tecnicamente questa definizione si definisce cronico quando persiste nel tempo cioè quando il dolore perdura nel tempo viene definito viene definito cronico o meglio delle ore persistente in realtà anche qui quando il dolore dice viene chiamato cronico viene chiamato cronico per definizione quando non guarisce nel tempo atteso o comunque perdura tre mesi dopo il fattore scatenato intervento una procedura un trauma un effetto un'infezione ma la la problematica che nasce che pongo subito un quesito a chi ci ascolta e anche a lei qual è e dice beh sì ma quando diventa cronico sì infatti voglio dire definiamo tre mesi ma se sono due mesi e ventinove giorni no siamo al limite oppure tre mesi e un giorno che succede cioè cosa succede è evidente che anche qui è una definizione per comodità di linguaggio di tassonomia medica di comunicazione in realtà i fenomeni di cronicizzazione avvengono esattamente in fase acuta cioè i fenomeni che poi portano determinate patologie ad amplificarsi vuol dire a non guarire più per quanto riguarda il riferito da parte del paziente avvengono esattamente in fase acuta qual è il messaggio se certi fenomeni manifestazioni dolorose non vengono catturate riconosciute curate tempestivamente in una fase acuta sono segnate ahimè ahimè probabilmente a non guarire più quindi c'è una differenza tra il dolore acuto e il dolore cronico sì c'è l'acuto diciamo è la risposta immediata il campanello d'allarme famoso campanello d'allarme di memoria cartesiana in cui dice si innesca una risposta e ci sta ma ne ma lo stesso dolore acuto se non lo tratti in modo adeguato rischia che da acuto diventa persistente che è quello che diventa cronico e come mai certe situazioni patologiche i pazienti dicono che stanno sempre male non guariscono ci sono dei meccanismi malgrado il tempo che non non aiutano cioè tutte le terapie magari sembrano fallire o vengono riferiti come tali perché la tempistica del fenomeno di amplificazione è venuta esattamente in quella fase acuta e non è stata curata in quel momento esatto cioè l'attenzione ecco perché uno dice la dimensione del dolore cronico avete dati epidemiologici secondo i dati diciamo di prevalenza dati di ricerca fatti a livello internazionale a livello europeo in italia mediamente sono circa 8 tra gli 8 e 9 mila 8 9 milioni di persone che soffrono di soffrono di forme di dolore di dolore cronico e gli anziani ancora più prevalente e questo per dare idea della 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 relazione ma poi spesso poi il problema è che che relazione c'è diciamo tra il danno spesso che non si vede e faccio un esempio un classico senza parlare di trauma erpes zoster il fuoco di sant'antone olgarmente chiamato comunale ti chiamato il fuoco di sant'antone si che capita frequentemente nei pazienti diciamo immunodepressi diciamo grandi anziani anche pazienti sottoposti anche anche giovani a grossi stress emotivi no in apparenza 9 su 10 i pazienti sono guariti in termini tecnici clinici però il paziente ti riferisce sempre che comunque continua ad avere dolore fastidio magari non riesce non so a fare la doccia se una donna magari non riesce a mettere reggiseno perché gli dà fastidio perché gli dà bruciore quando sono tutti clinicamente uno può fare tutti gli esami strumentali di questo mondo non troverà nulla cioè troverà tutto negativo e in quel caso anche lì è il paziente che è impazzito no non è che il paziente è impazzito si è creata nella fase Q una forma di elaborazione di amplificazione del dolore di conduzione quella quale in apparenza clinicamente è guarito ma il paziente continua a riferire come tale dolore come se fosse esattamente il primo giorno capisce di cosa sto parlando quindi il rapporto acuto cronico in realtà è molto più stretto di quello che noi pensavamo per tanti anni tanto è vero che questo questo limite diciamo di atteggiamento ha creato qualche problema no nel senso che la logica era dualistica per anni della medicina cioè l'uomo combatte conti dolore data da sempre no attestate di tentativi più o meno scientifici o più o meno logici di approccio l'ha sempre avuto nella storia nella storia dell'uomo quando sono quando abbiamo fatto il vero salto in avanti quando si è intuito diciamo i meccanismi di neurofisiologia di conduzione di quella definizione che dicevo inizialmente no del rapporto tra aspetto biologico e aspetto emotivo il ruolo dell'elaborazione anche dell'emotività del ricordo delle delle sensazioni quindi c'entra il cervello al assolutamente assolutamente sì nella sua elaborazione tanto è vero che queste conoscenze cos'è che hanno portato hanno portato in qualche modo a cambiare atteggiamento noi per anni ma da sempre in tantissimi anni purtroppo la medicina ha avuto su questa tematica su questi malati perché sono persone malate di dolore cioè non è un dolore sono persone malate di dolore questo anche qui non è una finezza ma ci tengono sono persone che hanno dolore non è che tratti dolore più tanti quelle persone per anni diciamo abbiamo avuto sempre un approccio dualistico al malato cioè dice la medicina intendo o vedo e quindi giustifico io medico no io parenti a volte perché anche i parenti a volte possono essere un aiuto ma a volte sono devastanti nel senso negativo e tu dici beh o vedo allora in qualche modo io medico ha delle aspettative allora giustifico che il fatto che tu abbia male o viceversa se non vedo in termini che non riscontro un danno evidente mi viene il dubbio applico un modello dualistico che direi o è biologico e mentale ok per anni diciamo la medicina su queste tematiche non riuscendo a mettere insieme le due cose che poi se 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 chi ci segue mette insieme è la definizione no tra mentale elaborazione e danno e allora per anni abbiamo fatto un po di danni nel senso che non diciamo avendo dei limiti di visione classificavamo magari come psicologici o mentali dei soggetti che in realtà avevano un danno biologico vero e proprio per fortuna da qualche decennio l'approccio più indicato a questo tipo di malati che anche qui la definizione ha una sua grossa importanza non è non è complessità è l'approccio biopsico sociale cioè il malato con dolore e persistenze come con come si approccia con un modello biopsico sociale quindi vuol dire che nel vissuto nel riferito di quel soggetto che ha tanto disagio a prescindere dalla causa iniziale nel riferito del disagio c'è una componente biologica una componente psicologica è una componente sociale di vissuto di contesto di condizioni di aspetti culturali sociali che tutti insieme danno il risultato dottore somale quindi cioè è per dare che la dimensione il rapporto è molto complesso e multidimensionale questo chiaramente questo chiaramente fa pugni no con le logiche di medicine miracolistiche risposte pronte informazioni sbagliate su cure miracolistiche o farmaci miracolistiche perché non prendono in considerazione la partenza e la domanda di salute quindi è un paziente complesso non c'è una formula magica complesso non vuol dire difficile attenzione ma che ci sono molti aspetti da considerare bravissima cioè non è non è dire il paziente difficile no è un paziente complesso però se gli operatori se il sistema se gli stessi malati e i parenti cioè i caregiver le figure di riferimento del malato o della malata e se non si è consapevoli di questi aspetti e anche è anche difficile come dire fare un piano terapeutico cioè perché le aspettative del malato sono molto elevate non sono realistiche e questo è un altro grosso problema perché spesso l'approccio io dirigo ho l'onore di dirige una struttura diciamo che tratta le le complessità di queste situazioni no ci provengono anche da tutta Italia anche dall'estero quasi in situazioni molto complesse no e la una frase purtroppo ricorrente lei l'ultima spiaggia no nel senso che capito l'aspettativa è di trovare una formulazione magica e la frase in generale è che dire ne è consapevole situazione vediamo nella complessità ma anche per divisione da dove possiamo iniziare ad aiutarlo però capisce le aspettative tra terapia tra curante e paziente devono essere assolutamente allineate se no hai o un'aspettativa miracolica o l'effetto poi della diluzione rispetto alle attese anche questo c'è la comunicazione il fatto attenzione e quello che posso fare e in tutto questo ci tengo a dirlo ci tengo a dirlo l'altra medicina importante lo sa qual è la psicologia diretta non eravamo neanche d'accordo sono le risorse del malato cioè la sua capacità di riuscire in questa complessità di fronte al fatto che un medico ti dice ti dica guardi la situazione è complessa possiamo fare i farmici la multa tecnologia va bene tutto che poi penso ne parleremo di questo ma lei deve diciamo in modo molto semplice ma non semplicistico lei deve fare la sua parte capito con un certo atteggiamento positivo di determinazione cercare comunque le dico alcuni suggerimenti che si danno di cercare di muoversi non stare chiusi in casa cioè quelle di diciamo anche sul lavoro di riprendersi se ha la fortuna visto anche alcune criticità sociali che ci sono in giro di poter lavorare provi comunque anche con il disagio di di andare a lavorare perché la risorsa della persona nell'essere positiva anche qui non è una frase fatta ma è importante e c'è collaborazione di solito eh e c'è collaborazione di solito eh non sempre ne parlavo ieri con una signora che ho visto eh non sempre l'esempio le metafole che le faccio è quello del bicchiere mezzo pieno ci sono dei soggetti che vedono dice sì il bicchiere mezzo pieno e quindi è contento e motivato ci sarà capitato a tutti nella vita anche per le cose anche non di medicina no e questo ti dà grinta e determinazione e voglia di fare c'è quel paziente che dice sì no ma no mi manca capito oppure rincorre un passato noi vediamo purtroppo storie frequentemente di genere anche di sesso femminile per questo poi ci sarà tempo magari ne parliamo la prevalenza delle sindrome persistenti cioè di dolore cronico è nettamente a favore delle persone di sesso femminile no c'è anche questo dato di genere che è importante scientificamente molto molto diciamo è un dato noto non vi svelo nulla di di segreto e quindi capito se il paziente è negativo cosa fa ogni cosa che fai no le metafora del bicchiere mezzo pieno c'è sì ma manca sempre qualcosa ma manca sempre qualcosa oppure il più grosso errore che si fa che probabilmente anche colpa nostra dei medici ma poi ha a che fare con delle persone non è ogni persona ha la sua struttura le sue che ci sia come dire il livello di aspettativa è quello passato lei magari viene da me dopo una storia di quattro cinque anni dice beh facciamo il punto da adesso in avanti no il bicchiere no ma io voglio tornare la la claudia di quattro anni fa signora ma neanche io sono il paolo di quattro anni fa provi anche come dire a trovare un allineamento di relazione anche umana questo è il più grosso errore che si fa però non riesco più a fare no ma io sto sempre male perché non riesco attenzione in tutto questo poi ci sono anche una piccola parte che in questo contesto in qualche modo ha trovato un suo equilibrio dice come è patologica sì ci sono dei soggetti in cui questa condizione è provoca degli equilibri diventa la vita del soggetto con la patologia e sì perché poi alcuni per in situazioni diciamo un po più al limite di fragilità emotive ci sono quelle che i miei amici psicologi e psichiatri dicono come i vantaggi secondari no cioè i pazienti si lamenta di quella situazione vive dio giustamente cerca le cure migliori possibili e a volte trovi anche gli estremi in cui quasi la sfida del fallimento diventa la la vittoria del paziente no un argomento molto sottile però sono quelli che psicologi anche qui ampiamente documentato chiamano vantaggi secondari nel senso che quell'equilibrio ha creato intorno al malato una serie di relazioni di contesti di affettivi e sociali e di attenzione che è diventato da fuori dice patologico però per il paziente è il suo equilibrio prova a dirglielo diciamo ti lancia la sede addosso quindi ovviamente non lo puoi dire però anche questo visto che ho accettato l'invito anche per cercare di contribuire anche con sistemi diciamo sociali non sono un grande amante però proprio per comunicare per dire signore mettiamoci insieme decidiamo quale quale qual è l'obiettivo qual è il piano ci mettiamo come dire un po in discussione il medico non è un mago proprio per la proprio per quella complessità di definizione che abbiamo detto no modello bio psico sociale quindi vuol dire che nei tanti soggetti c'è un equilibrio un case mix diciamo di tutte le componenti e in cui il paziente è anche una risorsa quindi questa consapevolezza che come vede non è una medicina miracolistica è chiaro che un bisogno del genere in genere non buca no sì io ho avuto come stamane la ringrazio ho modo a volte di trovare degli strumenti anche per comunicare chiaramente non fai notizia no io sto ponendo delle problemi di complessità di bisogni e di risposte poi ci concentreremo anche su alcune cose che fanno anche effetto come tecnologia no per il controllo però la condizione di partenza è sempre questa complessità ma questa complessità pensi anche un dato importante perché riguarda anche il sistema che deve erogare le cure sistema stato sistema sanità perché è riconosciuto assolutamente sì però in tutti capisce c'è la deve esserci la la consapevolezza di una complessità del bisogno ed una complessità di organizzazione perché per cercare di curare o farsi carico che sarebbe più corretto dirlo anche lì non è una finezza la differenza deve avere la consapevolezza che deve avere una complessità organizzativa per poter dare una risposta perché tu non dai la pillola magica perché se ti limiti a dare la pillola magica su quel tipo di bisogno 9 su 10 sei fallimentare questa è la verità e devo dire in italia peraltro da un punto di vista normativo no siamo l'unico paese al mondo che per legge quindi è una un grandissimo atto di civiltà eh l'unico paese al mondo che ha ha reso obbligatorio da da circa sì esattamente dieci anni perché la legge è datata marzo duemila e dieci la legge trentotto eh rende obbligatoria la misurazione e la cura del dolore in tutti i pazienti e in tutti i contesti di cura da domicidio all'RSA all'ospedale ABBA all'ospedale Spocco all'ospedale di riabilitazione questo perché è emessa proprio la necessità la sensibilità di cura in tutti i pazienti oncologici e non oncologici distinguendo poi il bisogno al altro argomento molto sensibile quello delle cure palliative vuol dire sono sono due bisogni diversi no quindi vuol dire che eh per fortuna per esempio anche tanti pazienti oncologici non vanno in fase palliativa nel senso che le terapie si diventano sempre più efficaci magari hanno un disagio dei trattamenti degli effetti con dolore persistente nel tempo ma non sono eh come in fase molto avanzata di di o fase di di terminalità quindi vengono inquadrati in questa categoria di pazienti in cui tu devi cercare di migliorare la qualità di vita ecco noi lavoriamo la terapia del dolore lavora nel migliorare l'obiettivo la qualità di vita dei soggetti i soggetti spesso non guariscono non guariscono in senso classico anche questa è una cosa diversa rispetto ad altre tematiche nel senso che non guarisce perché lui ti riferisce che non sta in assoluto assente da certe situazioni perché il suo disagio è il mix di quelle combinazioni e anche questo è un messaggio di di relazione molto importante come dire guardi l'aiuto a migliorare a migliorare la qualità di vita ma se lei cerca tutte le soluzioni che quel problema che è la somma di tutto il momento trova in giro eh delle soluzioni non lo trova e io a me vedo anche persone che che mi raccontano che spesso spendono un sacco di soldi eh terapia a volte discutibili eh però sai anche lì si apre un altro fronte no eh l'esasperazione non l'esasperazione però a volte francamente terapia discutibili e sai uno ognuno rispetta le scelte dei pazienti però in realtà è questo i pazienti con loro presistenze non sempre guariscono e anche questo è un dato che non è comune non è accettato molto ma infatti probabilmente la dimensione che lo stai portando è una dimensione mondiale eh cioè non sto dicendo almeno mi parlo delle culture in cui magari non c'è il problema proprio della mortalità o di altre situazioni per povertà diciamo nelle culture occidentali no mettiamo un occidentale fra virgolette la dimensione di questi bisogni dei malati e di e di numerosità è è è è è è nota no la sa come sono iniziate i telespettatori i chi ci stanno seguendo eh abbiamo anche una domanda eh dopo sì 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 adesso arrivo se no perdo il filo e comincio a avere qualche capello bianco anch'io sono meno brillante del solito allora che che è questo cioè la 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 dimensione del problema si sono si sono accolti per prima diciamo del dolore persistente di questo bisogno dove vigono dei sistemi assicurativi di salute in quanto c'era una marea di rimborsi di richieste di rimborsi che venivano solo secondi alle patologie cardiovascolari no tu hai un tracciante dei pazienti dove vigono i sistemi assicurativi dice madonna ma che so come mai questo continua a chiedermi cure no lì è stato eh quindi parlo degli Stati Uniti inizialmente è è emesso il problema no poi via via dalla luce di questi c'è sì ma effettivamente quei bisogni classificati in quel modo come mai continua ad accedere a chiedere cure riabilitazione e lì è emersa anche come dire la 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 dimensione della della del anche dell'impatto economico cioè investire in qualità di cura dei pazienti vuol dire oltre ad aiutare i pazienti a stare meglio qualche volta guariscono qualche volta non guariscono dipende dal fatto ma tu comunque ti metti inizialmente incidi sulla sua attività produttiva c'è la fortuna di lavorare sulla sul suo impatto di relazione sociale familiare affittivo relazionale lei capisce dice se io lavoro su qualità che cosa incide e che spesso è difficile misurare l'azione dice io aiuto la signora x a stare meglio il malato x no faccio non ho così traccianti molto efficaci a vedere l'effetto dell'azione capisce perché tu vedi subito l'effetto del costo e poi magari i tempi non si sa quantificare neanche il tempo esatto perché c'è c'è un problema proprio di qualità di valutazione comunque le volevo chiedere di fare questa questa osservazione che mi ha molto colpito qualche anno fa mi hanno sono stato coinvolto per produrre un documento dei diritti dei pazienti anziani diritti depositato la comunità europea no quindi c'è stato un confronto tra associazioni di pazienti quindi mondo del volontariato e mondo istituzionale a livello a livello nazionale a livello internazionale ma ma lei lo sa quale e lo chiedo anche a chi ci sta ascoltando adesso in diretto in registrato non so dove andrà questa nostra che chiarata ora siamo in diretta quindi magari ci rispondono già in diretta no vabbè comunque sa che cosa qual è la prima cosa che chiedono i pazienti con queste dimensioni no di complessità di dolore che non passa che 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 girano un pochino di morire in fretta no 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 di guarire in fretta allora no no allora non lo so proviamoci dai domande troppo difficili no no proviamo a chiederla chi è in diretta da ccc secondo voi che siete in diretta qual è la domanda che fanno gli anziani la prima cosa che chiedono i pazienti che arrivano da queste storie devastanti diciamo di disagio da anni anni magari non so abbiamo una risposta abbiamo delle risposte prova a dire quella più educata perché non riesco a trovare qualcuno che mi aiuta sì questo poi l'altro passaggio il problema la prima cosa che chiedono è quella di essere creduti eh sì però se ci ragiona ci ragioniamo insieme ci ragiona anche chi ci sta ascoltando ci ascolterà in differita o non so che cosa lei capisce che è una premessa fondamentale eh sì perché se il dolore non è visibile e non è visibile il dolore non è visibile il paziente non è non è non è non è creduto o la sensazione di non essere creduto lei capisce che tutta la sequela di approcci è devastante e viene meno quindi a me questa roba mia questa questo diciamo sentimento questa questa necessità devo dire la verità quando lo la sentì la prima volta proprio espressa chiaramente mi è molto colpito anche umanamente eh beh faccio il medico vabbè qui adesso sono sono in camice però voglio dire se si è persone no che sono persone che fanno i medici c'è come di aiutare altre persone bene o male a volte magari media ma siamo delle persone ma siamo mica dei chissà dei mostri no sia in positivo che in negativo però mi ha molto colpito e poi ragioni no dice perché sì effettivamente se parla a sistema non delle singole esperienze io sto parlando a sistema no è chiaro che se se non credi in quelle condizioni è chiaro che capisci se se tu non parti dalla premessa di di chiedere a a quel bisogno del paziente è chiaro che tutte le risposte o tutte le sequenze che vantiamo di fare o non fare diventano rischiano diventare fallimentari capisce quella è la premessa quindi eh in in tanti pazienti c'è la consapevolezza della complessità no e semplicemente chiedono di essere creduti di essere aiutati e allora già questa premessa diciamo simmetrica tra domanda e sistema che già questa secondo me anche se è molto forte anche lì non è tradizionale in un'epoca in cui è tutto veloce tutto smart e tutto rapido e tutto pronto e tutto tutto velo eh è una buona premessa per fare un buon patto terapeutico per poter effettivamente aiutare 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 i malati capisce questo è un aspetto mi ha molto colpito questa quando la in questa si si faceva diciamo un'iniziazione della carta dei diritti no? Ma l'hanno pubblicata poi? Sì sì è in comunità europea sì è rappresentata in comunità europea del paziente over 65 anni anche se adesso ormai l'età su 65 anni sa che viene un po' spostata sul quotidiano anziano oltre 75 anni però però dà anche la dimensione non so del disagio sì 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 è vero e anche della sospirazione perché è un soggetto che va come dicevo prima volta magari anche spendendo dei propri soldi o del sistema sanitario si fa fare a qualsiasi cosa ma no ma non è una buona ragione capisce? Cioè la sospirazione spesso anche per questo io dico a volte pari vogolette sgrido i parenti no? Le persone che ci sono che accompagnano guido perché a volte invece di riportare alla condizione di difficoltà o di complessità non fanno altro che amplificare queste ricerche miracolistiche o aspettative miracolistiche capisce? Questa è la premessa al sistema no? Da lì non è tutto negativo ovviamente c'è tutta una serie di situazioni di trattamenti e di approcci che sicuramente eh si possono fare eh un altro aspetto le dicevo prima è tutte le forme non so si parlava del nesso tra acuto e cronico di patologie di situazioni riguardano tutte le fasce di età si potenzialmente riguardano tutte le forme di di patologie non c'è un nesso eh tutte le forme di dolore acuto possono diventare croniche la maggior parte delle forme di dolore acuto se non trattate in modo adeguato diventano croniche perché diventano croniche perché i meccanismi di amplificazione si formano in fase acuta quindi se non lo riconosci tempestivamente e fai una diagnosi algologica anche questo è un argomento nuovo che introduco rischi di essere fallimentare nel senso che la logica è io ho male tratto con tanto farmaco è molta grezza se ci pensano ho tanto male ci butto dentro utilizzo scusate che il medico mi sente anche un linguaggio poco scientifico però molto social è un linguaggio molto social sì però diciamo perché sì non so se è un linguaggio che mi conosce magari mi lancerà non so che cosa però come dire ho tanto dolore utilizzo tanto farmaco mi aspetto un risultato capisce poco quantità ho tanto fame mangio tanta pasta così è ho un dolore mi imbottisco di qualcosa ecco invece il messaggio che voglio il dubbio che voglio insinuare in tutti è questo che non funziona così infatti spiega tutti i fallimenti che ci sono funziona che sul meccanismo e tu dici sì ho tanto male ma perché hai tanto male cioè capito la domanda qual è qual è la componente che persiste in quel fenomeno di dolore quindi vuol dire non trattare in quantità ma trattare senza secondo meccanismo mi faccio un esempio o provo è lo mi viene adesso come metafora non so l'efficacia giuro non l'ho mai fatto però ho tanto fame e mangio tanta pasta tanto carne mi faccio un tiramisù non so che cosa invece in questo esattamente dice ma lo puoi fare anche se tanto fama no dice magari se sei diabetico non puoi mangiare tiramisù non puoi mangiare questo sto facendo questa metafora e qui la stessa cosa ho tanto dolore non è detto che un certo tipo di fama cioè tutti tutti di fama ci siano adatti a quella condizione non solo l'ho improvvisata ecco l'ho capita quindi l'ho capita io l'ho capita capito quindi vuol dire che è vero che il paziente x ha tanto male ma la logica è di ipotizzare qual è il meccanismo spesso con esami strumentali negativi che non ti aiutano quindi è la clinica che aiuta a capire il famoso fuoco di sant'antonio anche qui per 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 diciamo essere molto molto semplici no tu puoi fare tutti gli esami del mondo eh e paziente non troverai mai nulla che ti aiuta è la clinica è la storia è la clinica è la clinica è la clinica la proprio la semiottica la semiottica lo studio con le mani con pochissimi attrezzi molto operato che non costano nulla o poco che ti aiuta a fare una diagnosi e anche anche questo se ci pensa è controcorrente no noi pensiamo nella medicina iper specialistica iper tutto in realtà ritorni come dire guardi al futuro ma in realtà torna è tutto cioè tu guardi al futuro ma riporti il passato cioè che il passato era l'esami obiettivo del paziente è la visita è il colloquio poi per gli altri aspetti colloquio quindi è la visita clinica è la visita medica che in assenza su queste forme è il primo passo per poter fare diagnosi una volta fatta la diagnosi è capito il contesto paziente quindi la psiche la mente tutto quello che può in questo oggetto c'è perché questo oggetto non è un herpes e zoster e paziente claudio paolo maria che non è non è un herpes è un paziente che ha l'herpes anche questo decidi qual è il percorso terapeutico più efficace e ragioni secondo eziopatogenesi nel senso di che ti do ho quel farmaco quella combinazione di farmaci perché devo cercare di ridurre le diverse componenti in pazienti con dolore persistente non c'è un solo farmaco ma i pazienti vengono dati delle combination di farmaci si chiama proprio combination therapy perché combination perché le gli aspetti del paziente x che ti chiede aiuto che ha dolore sono diversi ed essendo diversi tu devi lavorare su diverse dimensioni del paziente e faccio un esempio il paziente non dorme perché ha dolore e quindi aiuti sonno ha una componente cosiddetta poi se vuole ne parliamo anche un po di definizioni ha una componente neuropatica e quindi da dei farmaci più che vanno sulla neuropatia ha una componente funzionale lavori su questo il paziente ha dolore solo quando cammina però quando si siede li passa completamente anche lì è complesso no perché dice se io si muovo o male se mi siede non mi passa lei capisce che non c'è un farmaco che ti segue che ti muove in altezza no ha capito il discorso del paziente guida la macchina il paziente magari va su un ponteggio perché fa l'architetto fa il muratore e che è diverso da io sto in ufficio quindi anche la cosiddetta del lavoro dice beh se ha un effetto collaterale se ne sei in ufficio vabbè mi addormento di fronte al limite mi viene la sonnolenza di fronte alla alla al video no computer ma se lo stesso soggetto con la stessa condizione per esempio fa un lavoro diverso guida il tir per il trasporto al lavoro di notte lei capisce che nella nella stessa patologia deve tenere conto di questi aspetti sembrano sembrano cose rilevanti ma sono dei sono i dettagli che fa la differenza cioè questo è proprio che ti rende totalmente ti evita una complicanza perché dice vengo per te per aiutarti poi magari all'incidente o si fa male per altre cose quindi la prima allora il primo passo siccome sono cure che vengono passate dallo stato queste no qual è l'iter che una persona col dolore acuto cioè si parte o un dolore acuto cosa fa va dal suo medico curante e la il primo passo che deve fare nella 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 diciamo in quanto dicevo anticipavo prima del discorso normativo no anche tutti i colleghi anche di medicina generale diciamo al sistema sappiamo no dell'importanza di trattare i dolori di fare di diagnosi di cercare di aiutare le persone ed evitare che i fenomeni e persistono si amplificano quindi la la giusta cura nel giusto momento è fondamentale per evitare quei fenomeni di amplificazione in generale cosa qual è il percorso diciamo ideale facciamolo così l'ideale il paziente ha un problema in un'algie di fase acuta è il primo riferimento a meno di si facciamo la via normale senza sorprese di patologia che ahimè a volte si ritrovano anche degenerative no facciamo situazione classica ha un problema algico in fase acuta il primo accesso in assenza di altre situazioni è il medico di medicina generale che sono anche lì sono tanti professionisti bravissimi tentativo di fare di anni trattamento sintomatico esami non esami spesso gli esami non servono facciamo sul mal di schiena ma facciamo gli esempi di mal di schiena visto che no vai dal medico di base bene deve farti la lastra chi l'ha detto fai non è nemmeno necessario perché anche noi i pazienti a volte diciamo no mi metto anche io come paziente devo avere la lastra per forza la risonanza la pette come se fosse la soluzione o devo stare in ospedale no poi a volte di chi fa di un amica l'aria dell'ospedale che ti fa guarire capisci se sei in assenza di diagnosi quindi trattamento sintomatico il problema si risolve bene quindi il problema non si risolve comincia a utilizzare altri percorsi c'è dietro quel mal di schiena che cosa ci può essere devo fare una schiena non passo passa poco non passa per niente ci sono segni neurologici allora a quel punto il percorso viene accelerato direttamente in ospedale viceversa passa a o passa in parte aumento il livello di diagnosi aumento il livello di trattamento ho bisogno di 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 accedere alla terapia del dolore perché vedo vedo che non riesco in qualche modo io medico di medicina generale a cioè mi sfugge qualche elemento in un dall'aspetto normativo poi ci sono modelli più organizzati regioni più organizzate regioni magari meno diciamo evolute su questo aspetto so la conoscenza della rete del dolore nel mio territorio nella mia regione e magari accedo a un primo livello che tecnicamente dalla logica degli aerei si chiama gli spuocco no cioè so che fa un livello di trattamento specialistico anche se non avvantetissimo mi aiuto oppure io medico di base se capisco che la dimensione è molto complessa conosco la mia offerta specialistica ospedaliera pubblica sistema sanitario regionale nazionale quindi questo sottolineo che a volte siamo sempre molto critici con noi stessi con le cose ma a volte non ci si rende conto della fortuna che abbiamo in generale parlo come sistema sanitario e dall'altra parte mi rendo conto della complessità perché ho fatto formazione perché mi sono interessato datematica perché anche una competenza perché è un problema di cultura no e di sensibilità e decido di mandarlo direttamente al hub no al centro di riferimento avanzato e un po se ci pensa è esattamente come succede in un'ipertensione uno paziente cardiopatico no cioè nelle pretensione vanno tutti in punto soccorso però fa mi dico di base le misure alla pressione si ipotizza perché dice magari la dottoressa claudio è stressata stai tranquilla non hai fa un primo approccio non è mica la automaticamente la manda in pronto soccorso cioè bene prendi questo ho capito perché c'è un'interferenza e finisce lì magari la cura oppure viceversa dice no è il caso che tu debba fare un ecocardio e ti manda è la stessa cosa e sul dolore no c'è un medico di base fondamentale comunque è come tecnicamente fa un triage assolutamente ha un ruolo chiave ha un ruolo chiave ha un ruolo a ruolo chiave spesso anche la medicina territoriale viene un po bistrattata ma non è così è fondamentale perché è lui che decide può incidere pesantemente nella velocità di arrivo sì cioè il fatto di selezionare no triage un terminone ma vuol dire selezionare decidere qual è il percorso giusto in base a quel bisogno poi chiaramente il percorso individuato può anche cambiare perché ti rendi conto che magari tu avevi un'idea e la situazione è degenerata quindi in questa logica la prima figura è il medico di base in base alla proprio alla diagnosi ai dubbi alle situazioni decide dove dove l'invio in base a delle strutture e viceversa poi succede il contrario no dal centro hai la risposta diciamo della cura del piano terapeutico degli accorgimenti della terapia da fare viceversa per dare continuità per dare continuità territoriale ecco e questa diciamo questo è il disegno questa è la logica che funziona eh c'è un aspetto che è la conoscenza da parte di tutti la cultura la cultura perché voglio dire anche certi discorsi che io li sto facendo qualche anno fa in università nessuno te ne insegnava capito ci sono delle culture ultra specialistiche ci sono delle culture di base la costevolezza che la cura dolore è la devi fare non perché è un diritto noi viviamo sempre che devi avere i carabinieri addosso per fare le cose no cioè i buoni comportamenti sono dovuti al fatto che qualcuno ti fa la muta o ti mettono dentro no il problema è che tu la devi fare perché è giusto che lo faccio cioè curare l'idore è una buona pratica medica sì quando io mi confronto anche questo no perché poi c'è sempre un po di orgoglio italiano con gli altri colleghi internazionali no e ogni tanto provi a vantare la questione della legge anche io non lo faccio mai perché la risposta è sa quale ci dicono gli altri ma noi lo facciamo già senza legge cioè non ho bisogno a volte ti dico non lo faccio più eh perché a volte provi come fai magari fa un po di giovinismo no ci sta anche qua diciamo ma noi e poi ti rispondi sì ma per noi lo facciamo ed è vero ed è vero e anche anche se li provi a negarlo ed è vero lo dice lo facciamo per cultura per conoscenza sensibilità quindi per dire non cioè non è la norma come dire abbiamo una normativa che ci aiuta però non è la normativa che risolve in sé il problema come dire del linea che la sensibilità davissima della normativa di agevola perché del linea il campo di gioco del linea che è un diritto cioè che del linea dice alle strutture che hanno in carico la salute dei cittadini attenzione guardate che quello lì vale quanto gli altri è chiaro però siccome l'avete visto ha sentito penso la dimensione molto complessa no non è la formula magica cioè non vedo metto la cataratta e quindi è la retina ho una gamba rotta ed ho una protesi d'anca qui la richiesta e la necessità di risposta è molto più articolata e spesso sfugge no non crei un solo indicatore che dica quello che ci sta facendo in questo ci vuole come dire dobbiamo essere tutti insieme cioè ci devono essere molte sensibilità i professionisti competenti la competenza c'è là e si studia anche questo a volte alcuni si arrabbiano dico se uno non studia non le sa le cose anche se ha 60 anni 70 o è sempre fatto in un modo come fai a sapere le conoscenze devi studiare ma qui ci si forma continuamente sì ma a volte sai quando c'è un professionista che ha uno suo e dice guarda che devi studiare che non sei un h di quella questione detto tra colleghi uno dice no ma se non studi non la sai ah sì sì quindi consapevolezza dei professionisti di aggiornarsi consapevolezza del sistema e consapevolezza dei malati dei cittadini no e questo aiuta a cercare di erogare le migliori cure possibili a volte con guarigione completa delle sindrome de la rossa a volte un po' meno no rispetto però questo è fatto cioè chi dice chi dicesse o affermi il contrario sappiate che non è così sta raccontando fesseria vista il sistema social è così anche se è poco scientifico sono stupida prendo le due domande non è così se partiamo da quella complessità tutto il resto come dire tutto il resto poi parliamo prendo le due domande cosa le sì vada allora la prima era mi riferisco al dolore di malati terminali la terapia del dolore riesce ad aiutare per pietà il trapasso ma non è che il trapasso la terapia dolore la medicina cura anche in quella fase la vita del paziente non pure il trapasso tra passo mi è un po troppo negativo cerca di garantire la migliore vita possibile anche quei pazienti cioè il fatto che sia terminale non vuol dire che ti gira dall'altra parte è un concetto questo importante c'è la terapia del dolore anche meccanismi di sedazione che non è etanassia sedazione ridurre magari la sofferenza del malato in quella fase di e cura di vita non è cura di morte cioè questo è un passaggio che a volte vedo sfugge perché più quella è cura di vita cioè se io curo malati in quelle condizioni lo curo per vita non lo curo per morire la linea sottile è che il fatto che il paziente vada poi a mortalità o vada ad ex plus diciamo definito atteso quello è un altro discorso ma io cerco di curarlo per garantire la migliore qualità di vita possibile anche in quelle condizioni quindi non è il trapasso qui nessuno trapassa nessuno cioè nel senso che favorisce o meno cerca di garantire la migliore vita possibile anche di fronte a patologie degenerative in fase avanzate qui vedi le funzioni biologiche di coscienza del malato via 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 spegnersi ma tu lo segui in quell'azione lì cercando a sua volta con i farmaci di non amplificare gli effetti della degenerazione ahimè della patologia cioè io invertirei curi la vita del malato anche quelle condizioni che sono iper estreme ma vive Dio dico io non è quelle cose che favorisce o non favorisce assolutamente no sì forse l'alternativa appunto e l'eutanasia no ma lì ci muovemo no ma perché ma lì è un po e diventa un campo molto io dico curiamo e cerchiamo di curare tutti i malati nel disagio nel migliore modo possibile come in caso come sia non allora anche la non c'entra niente perché dottoressa capisce non c'entra niente cioè tu curi anche in quella avanzata poi altre cose diciamo in volontà situazioni normative ma non mi interessa io da me dico succedendo io cerco di curare al meglio con il malato in tutte le condizioni sia che per fortuna perché sia povero che sia ricco che sia bianco che sia nero che abbia una patologia importante che abbia patologia che non vedo è garantito dalla nostra costituzione teniamocela stretta anche perché non ci si rende conto poi comportamenti idee situazioni ognuno può rispondere delle proprie azioni però un medico cura in tutti i contesti non decide lui cosa io la prenoto in una mia situazione estrema futura io vengo da voi è già prenotato comunque l'altra domanda è come si può aiutare un paziente con dolori causati da una malattia rara che non ha farmaci se non quel se non qualche rilassante e della fisioterapia e anche lì sulle malattie rare che in genere hanno sempre aspetti sono malattie ahimè del spesso del del campo gli aspetti neurologici no in genere sono le aree sempre quasi sempre neurologica che riguarda a volte anche diciamo persone in età bambini insomma in età infantile in età adolescenziale e anche lì la risposta è sempre come prima cioè in base al meccanismo in base al contesto paziente che quel danno neurologico presumo dalla domanda o limiti provoca in questo oggetto anche il livello di coscienza o di consapevolezza no perché alcune hanno anche forme di di alterazione della della coscienza il contesto il paziente autonomo non è autonomo riesce a deglutire non riesce a deglutire perché ci sono tutti questi aspetti no in base a quello decidi no qual è diciamo il piano terapeutico che più è adatto come dire il vestito più adatto terapeutico in questo oggetto e decidi se con farmaci con tecniche di rilassamento con tecnologia poi 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 aiutarli capisce cioè è molto contesto paziente contesto situazione e questo è comunque sempre l'iter che dicevamo prima le faccio un esempio no che è molto noto c'è c'è un problema persone molto giovani classico incidente in moto ma che sono giovanissimi vent'anni sanissimi escono in moto magari per andare in università o non so che cosa incidente trauma midollare paziente rimane paralizzato no o cade da cavallo o in piscina che si fa un don cervicale sempre uno superata la fase critica no di sopravvivenza di tutte le cui diciamo di neurocirurgia e di unità neuro riabilitative in essere diciamo nella fase 2 il primo problema qual è sì il paziente diciamo è sopravvissuto è venuto se gestita la situazione critica ha delle grosse contrazioni gli spasmi dovuti alla rigidità muscolare degli arti che impediscono la riabilitazione no perché il paziente è completamente contratto o ha le contrazioni sulle gambe quindi non riesce non riesce a stare sulla seda rotella non si riesce a fare la riabilitazione io introduco un elemento no quindi il paziente è quello di vent'anni che era appena uscito dall'università magari due mesi dopo si trova tre mesi dopo passato tutto l'itere si trova in quelle condizioni in cui il suo programma massimo di qualità di vita è quello di cercare di favorire la 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 riabilitazione quindi ridurre l'odore e favorire la riabilitazione il dolore è dovuto agli spalmi del mido agli spalmi della muscolatura degli alti inferiori che impediscono qualsiasi processo di riabilitazione e rendono complesso anche la seduta sulla seda rotella perché il paziente tende a contrarsi no visto che diciamo vi accennava un po di tecnologia l'unico il modo migliore l'unico modo con indicato per poter aiutare il paziente di tutti i farmaci quasi sempre per bocca diciamo per via tradizionale sono sono fallimentari l'unico modo per poter aiutare questi questi soggetti se indicato ovviamente se il paziente lo vuole fare perché c'è sempre la volontà che è la prima e quello di impiantare una pompa midollare cos'è la pompa midollare mettere un catetere che somministra alimentato da un sistema meccanico che somministra in automatico dei farmaci direttamente nel midollo spinale nel liquoro per cercare di ridurre la contrazione capito le facevo questo esempio che vista la domanda in cui è molto come dire tu decidi qual è la settagia non è una scala ci vado piano piano quando e quando diciamo il contesto lo consente vai piano piano perché segui via ma a volte deve avere delle accelerati in cui la via piano piano la via tradizionale mettiamo diventa non funziona non serve a niente oppure oppure aumentando i dosaggi e effetti collaterali qui tu un paziente ahimè sfortunato in quella situazione per poter aiutare due mesi o tre mesi dopo devi passare direttamente ad altissima tecnologia a scopo antagico che diventa una tecnologia attenzione non solo per dolore ma è una terapia del dolore anche funzionale questa è un'altra cosa che spesso sfugge a molti associamo al dolore sempre come un sintomo fino a sé e in più ignorano che spesso la terapia dolore è funzionale nel senso che ti consenti anche di riabilitare e funzionano le tue attività vitali quindi se non ci sono complicanze situazioni e va diciamo come deve andare quel paziente grazie a quel sistema non ha più le contrazioni o le contrazioni sono più controllate e riesce a fare qualità di vita il danno midonale c'è lui sarà sempre candidato ahimè a vivere su una sede rotelle però però non ha le contrazioni o ce n'ha di meno e riesce a fare un programma riabilitativo questa si chiama qualità di vita e siamo partiti dalla terapia dolore ed era il paziente magari di vent'anni che tre mesi prima aveva ben altri sogni e per curarlo per aiutarlo quindi lo curo sulla contrazione sul dolore ma la mia azione è funzionale questo per dire che contesto contesto paziente no come dire tu hai delle carte o delle frecce che utilizzi in base al bisogno c'è pazienti che hanno malo forte gli fai direttamente la morfina no non è che dici vado faccio dieci auli se ti rendi conto dice d'amblè vai sotto farmici morfinici la logica è spesso del graduale no ma il graduale quando il contesto lo permette e lo permette se c'è uno cade ad un incidente si fa frattura gli fai direttamente morfina non gli fai mica l'auligno il paracetamolo che quello neanche lo sente cioè capito è tutto graduato io non ho capito anche qui questo è un limite anche di culturale di comunicazione su su tante altre patologie l'approccio è sempre algoritmo in base all'intensità no cioè tu tratti in base alla gravità della situazione su questo aspetto del dolore c'è sempre quasi l'idea che cioè tu devi fare piano piano devi fare capisce vuol dire se un paziente ha un infatto lo tratti da infatto cioè non è che fai piano piano a volte non ho capito come nei luoghi comuni l'aspetto del dolore viene sempre vissuto da tutti no come se sempre devi aspettare devi vedere un'altra roba lo tratti secondo i bisogni e secondo le condizioni del paziente perché spesso volevo segnalare l'altro aspetto spesso noi vediamo pazienti che hanno dolore persistente a me non piace dire cronico non mi piace dire cronico a parte che sono mai scorretto perché dire dolore ha dolore acuto persistente dolore persistente perché nei luoghi comuni lei è un esperta visto che fa questo mestiere di comunicazione dire cronico italiano dà l'idea di un binario morto con tutto rispetto per i binari morti sì ok invece io sto dicendo tutt'altra roba no quindi anche gli anglosassoni che siccome noi copiamo tutto un pochino importiamo dalla cultura anglosassone anche continuano più sempre di più a utilizzare il persistente cioè dolore persistente dolore che dura no cioè dolore che dura cercando di abblare diciamo la parola croniche croniche che dà l'idea in tutti come dire ma lei ci pensi cara claudia lei da oggi visto che sono passati cinque mesi e non ci ho capito niente penso che abbia un dolore cronico me lo tempo vita claudia lei paziente claudia torna a casa e ci sono andato lo specialista sono andato qui e di là mi hanno detto che è dolore cronica e la lei dice e beh cioè capito cosa vuol dire che cambia questo vuol dire come a volte la tassonomia rischia di innescare dei meccanismi un po' perversi no vada pure con le domande scusi poi sono un po' le domande erano queste due ok le volevo dire poi volevo aggiungere se può interessare un altro un altro aspetto diciamo le patologie che 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 in cui è frequente il rischio di amplificazione quindi di cronicizzazione sono molte sono tantissime tendenzialmente ecco questo spasto un po' semplice ma da definire diciamo i 12 c'è dolore acuto dolore cronico abbiamo visto che tra acuto e cronico ci sono molto vicini no sono molto più vicini molti più legati di cui non è legato alla variabile temporale la fisiologia non lavora solo col tempo capisce quella una cosiddetta temporale diciamo vengono divisi in tre forme a meno utilizzo un'espressione ma non è difficile prova a tradurla il cosiddetto una volta definito come si dice dolore acuto cronico legato alla variabile a quella e secondo i meccanismi perché acuto e cronico è una variabile temporale siamo d'accordo abbiamo visto che il cronico in realtà si forma in fase acuta e secondo i meccanismi come si definisce dolore si definisce sembra una parola forte ma ve la spiego dolore nocicettivo cioè dolore per esempio un mal di schiena un tramo un discorso viscerale quello del discorso nocicettivo dolore neuropatico cioè quelle forme di dolore in cui c'è un danno di conduzione sulle fibre nervose non c'è stato tempo modo di parlarne finora quindi vuol dire che c'è un danno evidente di conduzione sulle fibre nervose sì quindi lui continua cioè l'organismo vuol dire che va continua a scaricare si dice tecnicamente impulsi vede alert risponde di anche se il paziente è guarito esempio che dicevamo prima della neuropatia sul fenomeno di amplificazione o l'arto fantasma pensi per estremo no cioè il paziente non ha l'arto magari l'altro infettore che ha importato ma ti indica l'alluce ti dice che gli fa male l'alluce che non c'è te lo indica ma non ce l'ha questo per dire le forme e poi il concetto che volevo introdurre come definizione è il dolore malattia quindi dolore campanello d'allarme dolore che diventa cronico definizione esopatogenetica cioè secondo la causa per non utilizzare espressioni troppo medichesi quindi nocicettivo che è quella reale neuropatico intuitivo ma deve esserci un danno e poi il dolore malattia vuol dire che il perdurare di quel sintomo che non è guarito ha provocato dei condizionamenti né soggetto sulla percezione in cui da una causa iniziale il dolore è diventato un'altra cosa condizionando gli aspetti di qualità e di percezione dei soggetti quindi vuol dire che il dolore è diventata malattia quindi quel paziente è malato di dolore non vuol dire che tutti quelli ha capito che passaggio abbiamo fatto acuto cronico definizione e poi ci sono quelle forme in cui l'elaborazione e non sono i pazienti che hanno alterazioni cognitive ho visto non sono matti ecco puoi dire in termini esclusivi eh cioè non è che perché vuol dire proprio che mi scuseranno chi i pazienti ma utilizzo un linguaggio molto semplice rischia magari a volte di sembrare non rispettoso però vuol dire che quella persistenza in quel soggetto in quella sensibilità ha provocato dei cambiamenti strutturali della percezione e in questo riprendo la definizione vuol dire che in quel soggetto dei meccanismi di sensibilità di emotività di condizioni hanno creato dei meccanismi di amplificazioni di conduzione tra le quali che da un meccanismo tra virgolette fisiologico di risposta è diventato un meccanismo aberrante perché le dico questo perché spesso i pazienti malati di dolore o con forme persistente oltre avere la richiesta di aiuto del dolore quindi che stanno male hanno altri quadri comuni sono sempre sempre accompagnati da ansia depressione e insonnia e c'è un meccanismo anche di genere perché due sui tre sono di sesso femminile ok quindi vuol dire che in questo fenomeno tra ansia e depressione ritorna alla nostra definizione esperienza sensoriale emotiva spiacevole unita a un danno più o meno tessutale organico più o meno evidente vuol dire che per scombinati per variati motivi il meccanismo anche emotivo depressivo ha creato dei fenomeni insieme al biologico di amplificazione le lascio diciamo con una considerazione uno dice il paziente che ha dolore continuo chiaramente va in depressione ti viene naturale no dice non guarisce non guarisce quindi io combino che la depressione in qualche modo è un effetto e invece magari la causa attenzione quindi poi dico no ma guarda caso tutti la parte di pazienti che che mi ripreso sono depressi allora anche questo concetto causa effetto viene 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 messo in discussione ma vuol vedere che che quel fenomeno di di persistenza dolore è stato amplificato anche dal fatto che in qualche modo quella forma di emotivamente diciamo di disagio il dolore non ha fatto altro che svatentizzarla vuol dire scopper chi ha la tecnicamente in realtà i due combinati viaggiano insieme poi la mente la mente sulla via di percezione del dolore può condizionare l'emotività la percezione biologica sì questo è dimostrato c'è qualcuno ha avuto anche i nobili per la medicina su questo nel meccanismo cioè il cervello il ricordo riesce a a a a modulare interferire sui meccanismi di conduzione assolutamente sì quindi vuol dire che che torniamo alla definizione è un combinato sì un combinato di situazioni che poi fanno in una buona parte di situazioni si guarisce tranquillamente ogni cosa diventa dolore acuto malattia dolore che poi cessa altri assumono questa devianza questa e diventa un'altra cosa e la depressione l'emotività il danno biologico è tutto insieme ma tutti insieme lavorano in modo perverso ad amplificare il fenomeno lei capisce quando arriva un soggetto così composito non è cioè l'aspettativa miracolistica non 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 ha senso ce n'è un approccio miracolistico diverso dire cara signora o caro signor x la situazione è questa possiamo fare questo percorso queste le sue situazioni ed ecco perché ritorno al concetto che dicevo prima di risorse del malato perché in un contesto del genere poi spesso sono anche pazienti molto giovani intendo molto giovani magari se parliamo di persone sesso femminile c'è proprio uno stereotipo che è legato chiudo gli occhi e le dico un po' il tipo di paziente che va sui 45 50 anni che in quella in questo c'è tutto un discorso un po complesso anche neuroindocrino no ormonali in fase di premenopausa o appena vanno da una pausa in cui guarda caso si innescono si amplificano con certi fenomeni quindi c'è tutto poi un mondo quello sia molto più complesso di spiegare di di endorfine che si autoalimentano sulla sulla percezione del dolore il dolore e poi l'altra domanda che verrebbe si misura si misura si misura in quella parte diciamo soggettiva biologica di acuto sai famoso 0 10 da 0 a 10 però anche chiaro anche quello lì è un sistema molto soggettivo di risposta però non ne abbiamo tanti strumenti non non abbiamo termometri che misurano visto che tanto va di moda adesso per altri problemi giustamente la misurazione della temperatura qui non abbiamo la misurazione del dolore quindi hai una logica molto monodimensionale che ti dico che dolore ha ma tu mi dici solo l'intensità del dolore no il paziente mi dice solo l'intensità di tutte quelle altre componenti che abbiamo detto non è in grado di discernere però quantomeno uno strumento tanto è vero che è obbligatorio eh lo sa anche sulle cartelle cliniche nei sistemi di accreditamento è obbligatorio oltre che il trattamento ovviamente la misura perché con tutti i limiti se non la misuri con quali criteri decidi di trattare questo su questa tematica poi cosa fare cosa fare sicuramente anche questi incontri credo piccolo contributo su cambiamenti sicuramente aiuta cosa deve fare ma secondo me non deve cercare scappatoio cercare di stimolare i servizi che ci sono sapendo che ci sono dei servizi oregati cercare di trovare delle risposte eh sì secondo me l'importante proprio sapere capito cioè sapere che c'è questa consapevolezza pretendere pretendere chiedo scusa pretendere come dire il trattamento no cercare di trovare delle risposte no se non fermassi in caso di ma io sto male non riesco a trovare risposte però anche lì utilizzare la testa no sapere che quella situazione ti può provocare magari un fatto di esasperazione e perdi di lucidità per la lucidità magari ti sottoponi o fai delle cose abbastanza strambe diciamo non appropiate per essere più da professionista capito e la chiudo lì e non aggiungo altro anche perché vuol dire in tutte le realtà italiane ci sono delle strutture più o meno organizzate che cerco di dare risposte però è chiaro che se ti affida le strutture organizzate ti aiutano oppure in difficoltà ti dice guarda non ce la faccio so che in quel posto fanno questo proviamo a fare così e questo è un po il suo mestiere comunicare comunicare e informare ecco sembra poco cioè sembra facile ma poi i cambiamenti della stasera sono difficili sono difficili infatti il mio canale è fatto proprio per dar voce a degli argomenti importanti di cui si dovrebbe parlare di più per questo io ci ho tenuto particolarmente a trattare questo argomento con lei e se ne avesse voglia se poi ci sono altre domande curiosità così il mio canale è sempre aperto ok grazie per aver aiutato a dare un piccolo contributo ecco ma sì anche perché io cosa faccio lascio sempre tutto online lo indicizzo quindi sicuramente chi non l'ha guardato in diretta lo può guardare poi successivamente riguardarselo condividerlo e è così insomma la comunicazione io credo che di informazione lei ne abbia date tantissime utilissime davvero ha detto tante cose che io non conoscevo quindi e credo che anche tanti che magari ci hanno seguito non le conoscevano e sia importante invece la ringrazio tanto grazie a lei ringrazio chi ci ha seguito e chi condividerà anche la diretta e ci aiuterà a a divulgare un po di informazione ringrazio gli lo sponsor umani igienizzanti estera di dj che lui ecco è una web radio che ci aiuta a divulgare queste questi video grazie mille buona giornata rivederci